un caro saluto da mario giuliacci che tempo fra martedì 27 aprile bene le due perturbazioni a cui già accennavamo due giorni fa ormai saranno giunte sull'italia una dalla francia e una dal nord africa e quindi cominceranno a portare piogge su gran parte della penisola in parte sono previste piogge su gran parte del centro nord e tranne alle marche labruzzo e molise piogge anche sulle isole maggiore piogge che attenzione saranno in prevalenza sotto forma di brusche e violenti rovesci piogge che saranno abbondanti soprattutto sui laghi dal nord italia le temperature scenderanno di due o tre gradi sulla regione di nord ovest e tirreniche le massime saranno intorno 18 20 gradi sulla regione di nord ovest e sulle regioni tirreniche intorno a 20 23 gradi sul resto dell'italia termina qui un caro saluto ancora da mario giuliacci